Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi una t-session per parlare con voi della nuova parte del libro Revenge di Tom Bauer che ci offre il retroscena della Megxit, ovvero dell'uscita dal Regno Unito di Harry e Meghan. Nell'ultima puntata, vi invito a riguardarle tutte quante, sono in una bella playlist, ho parlato degli accordi di Sandrigam, ovvero quello che era stato detto, quello che era stato imposto a Harry e Meghan quando se ne erano andati. Loro, in particolare Harry, perché non è che Meghan lo abbia manipolato al punto di avergli fatto fare cose che lui non voleva, Harry desiderava stare con un piede dentro e uno fuori, praticamente fare quello che gli impareva negli USA, negli USA e ogni tanto adempiere a qualche compito assegnatoli dalla regina. Tra l'altro, se ricordate come si esprimeva, diceva io sono sempre al servizio della regina, eccetera, ma si capiva tanto, un po' nel suo sottolineare questo, che non voleva comunque dar noie o comunque far arrabbiare la nonnina. E invece, adesso mi chiedo, considerato che il re e il padre, come stiano andando le cose, dalle ultime news pare che si stiano risentendo spesso. Forse è un po' tornato con la coda tra le gambe, ma neanche tanto. Volevo fare uno short in cui vi facevo vedere l'ultimo appuntamento di Harry e Meghan che c'è stato ieri sera, quindi a quanto pare non stanno litigando, non si facevano vedere insieme da un bel po'. E invece queste uscite, secondo me, sono perfettamente calibrate per mostrare che tra loro va tutto bene, che è tutto una rosa e fiori, quando in realtà non proprio. Anche perché adesso vi farò vedere anche uno spezzone di un video, perché vediate come, guardate, un'immagine vale più di mille parole. Quando si consumò questo divorzio, nelle occasioni pubbliche, Meghan sorrideva, è ok, è un'attrice, e invece William, Kate e Harry, tutti con la faccia scura. Lei era l'unica contenta che aveva tratto qualcosa da questa separazione, da questo divorzio. Ciao a tutti quelli che mi stanno seguendo in diretta, grazie mille per essere qui con me questa sera. Il mio tè è caldissimo, quindi mi sto bruciando. Ok, iniziamo. Siamo al capitolo, oggi vi racconterò due capitoli del libro, credo il capitolo 33 e 34. Incredibilmente stiamo arrivando alla fine, ma dopo ci sarà ancora tanto da dire. Dopo vi racconterò alcuni capitoli del libro di Valentine Hello, Cortigiani, che è uscito anche in Italia, tra l'altro, in cui si narrano proprio in maniera più specifica episodi del bullismo di Meghan al danni dei suoi assistenti. Poi, come vi dicevo, magari passerò anche ad altri personaggi, ovvero William e Carlo. Ora focalizziamoci su questo. Harry al tempo disse, al tempo di questo divorzio, siamo a febbraio-marzo, Meghan mi ha salvato, lui si ritiene salvato. Anche perché, se voi ricordate tutto quello che vi dissi su Sperra, questo ragazzo alla fine, nonostante i 38 anni che ha adesso, non so se è così 39, è un po' viziato. La sua idea, quello che faceva davvero di lavoro, un po' perché comunque era stato costretto, era andarsene in giro a divertirsi. Alla fine, mi sembra che il suo stato naturale sia quello di persona che non fa molto nella vita. E questo è quello che gli ha dato Meghan. Soprattutto, Harry è stato molto onesto nel dire che lui aveva bisogno di qualcuno che lo guidasse. E ha trovato perfettamente questo in Meghan. Ha lasciato a lei le magagne. Posto che poi, quando ha scritto Sperra, ok, si è posto in prima persona. Ma, come vedrete anche qui, comincia a ripetere a pappagallo quello che gli dice lei. Harry e Meghan erano appunto stati ormai licenziati, chiamiamoli così, anche se magari i loro fan direbbero diversamente, se ne erano andati a Vancouver. Ma era stato previsto che ci sarebbe stato un periodo di transizione che terminava a marzo e fino ad allora avrebbero avuto ancora qualche compito reale. e Meghan, che è un'artista da questo punto di vista, aveva detto sicuramente a Harry presentiamoci al meglio, scusate. Ecco qui. Questa è l'immagine che mostrarono di sé il 5 marzo del 2020, alla vigilia della pandemia. Ma se vi ricordate bene, eravamo noi italiani che eravamo andati in lockdown prima di tutti gli altri. In realtà nel resto del mondo è successo dopo. Quindi il 5 marzo, vedete, guardate ancora tutti senza mascherina. Loro hanno contrattato un fotografo professionista che ha fatto questa foto, sotto alla pioggia, con i vestiti coordinati. Guardate che bell'effetto anche con il flash. Poi direte, è solo una fotografia. In realtà allora era uno statement, una dichiarazione implicita. Ovvero, sì, ci avete cacciato, ce ne siamo andati, ma non siamo da persone che devono generare pietà. Perché eccoci, belli, più splendenti che mai, più uniti che mai, sorridenti. Perché poi questa era una foto così in un istante, ma nel resto si guardavano, sorridevano. E quasi quasi ciò lasciava trapelare che forse erano quelli che ne erano usciti i vincitori. Perché se ne andavano liberi e felici, mentre William e Kate, William in particolare, che ne era uscito anche come quello cattivo rispetto al fratello Harry, rimaneva in patria a assorbirsi il peso, insomma, della vita reale. E questo era una giornata in cui distribuivano premi per il fondo Endeavor. E il fotografo Arthur Edwards definì la foto che aveva appena fatto vedere la migliore foto dell'anno. Anche Vanity Fair disse che questa foto era molto cinematografica e queste fotografie, perché ce n'erano altre, e convoiava molto affetto nella coppia. Harry vi dicevo, non sembrava un ostaggio, perché fino a quel momento molti avevano pensato, ah guarda, questa americana è arrivata qui, gli ha fatto cambiare idea, se l'ha portato via, narcisista, rovina famiglie e via dicendo. È come se la foto dicesse, eccomi qui al fianco della donna che amo e che mi fa brillare come mai prima d'ora. Nei giorni successivi, Harry poi, e ricordo quel periodo, non so se lo ricordate anche voi, in mezzo alle notizie Covid, lui stava anche, svolgendo appunto i suoi ultimi compiti, il suo ultimo compito in particolare fu con i suoi compagni d'armi. Come capitano generale dei Marines reali alla Royal Albert Hall, praticamente lui disse in un certo senso addio ai suoi gradi militari, il suo ultimo compito come reale, si commuove e la gente, il pubblico era composto comunque anche da militari, lo applaude perché è stato comunque un soldato reale, fa un pochino pena questa cosa, questa separazione, è come se anche per lui diventasse più reale, e per quanto lui alla cerimonia poi abbia detto continuerò a servire la regina e il paese e non lascerò mai da soli questa mia banda di fratelli, si riferiva agli altri militari feriti, è una causa che gli è stata molto a cuore sin da quando poi è stato nell'esercito. La gente inevitabilmente si chiedeva come farà a stare lontano da tutte le persone che ama, dalla sua famiglia, isolato, quasi in esilio e Tom Bauer ci dice che Meghan commentò arrabbiata con un amico in seguito riferendosi a questa serata è tutto così poco necessario, cioè noi non volevamo che finisse così, perché lo stanno privando dei suoi compiti, dei suoi gradi, delle sue medaglie. Il 9 marzo poi ci fu in effetti proprio un litigio con la famiglia reale, perché c'era un'altra celebrazione, il Commonwealth Day Service, e Harry e Meghan sono invitati, ma gli viene detto, e forse è un pochino una repicchia da parte della famiglia reale, che non possono unirsi alla famiglia nella processione verso l'abbazia di Westminster. Perché? Perché non sono più working royals. All'inizio avrebbero dovuto camminare dietro la regina, ma il palazzo aveva cambiato idea, perché non si fidavano più dei Sussex, forse, forse mi sento di dire che magari sapevano già che appunto sarebbero andati a fare interviste o che cos'altro e quindi forse erano un po' sul chi va là, però sembrava che volessero umiliarli pubblicamente. Loro in particolare, attenzione molto a questo commento qui perché spiega tantissimo perché Harry e Meghan insieme non siano voluti andare all'incoronazione, pare che la cosa che li abbia scioccati di più fosse stato il pensiero che la famiglia reale andasse avanti tutta unita e loro fossero relegati nelle retrovie. La ritenevano una cosa fuori dal mondo, inaccettabile. L'essere isolati in tv era una prospettiva che li faceva impallidire. Mi sento di dire, questo è stato scritto nel 2022, mi sento di dire che probabilmente è vero anche oggi, soprattutto per Meghan perché sinceramente Harry non mi è mai sembrato così presenzialista. Allora, siccome un'immagine o un video in questo caso vale più di mille parole, adesso guardiamo un attimo proprio che cosa sta succedendo perché vedrete in prima persona come William e Kate poi snobbano. Harry e Meghan perché? William e Kate per evitare un ulteriore litigio perché gli altri si stavano alterando avevano detto va bene rimaniamo anche noi indietro cioè non andiamo anche noi con la processione arriviamo dopo in chiesa e questo li ha placati e poi si sono uniti tutti quanti però in chiesa con Harry e Meghan seduti accanto a Edward e a sua moglie Sophie di Wessex dietro la regina dietro il allora principe Carlo e William e Kate guardate che cosa è successo Harry e Meghan erano già arrivati e ecco quando cosa succede quando arrivano William e Kate eccoli vedete guardate ci saranno tre volte in cui mostrerò il video guardate William e Kate a malapena li degnano di uno sguardo Meghan è lì che cerca di salutarle ehi William si gira un attimo l'altra hello e lui hello un minuto lei guardate per un attimo chiede la bocca come per dire ai ai Harry si vede che comunque non è sorpreso la cerca di distrarla ma di fatto in inglese è come se gli avessero offerto il cat direct cioè gli hanno proprio snobbati guardandoli in faccia per un istante e tutto il tempo vedete lei ci rimane un po' così però sempre il sorriso stampato sulla faccia perché insomma sa recitare ma ecco per farvi capire guardate dopo la faccia di William e Kate contenti? no guardate Harry scuro guardate Meghan invece adesso vi faccio vedere in fotografia la cosa in maniera più evidente eccoli un altro momento William e Kate tutt'altro che felici anche Harry faccia scura l'unica che sorride è Meghan perché ha ottenuto quello che volevano cioè così tutti bravi anche qui guardate Kate è quella che sta cercando di mostrare buon viso a cattivo gioco tra l'altro si vede che ha pure un volto strained come si dice in inglese tirato William non è contento Harry di nuovo scurissimo e l'unica che ride è lei in verde Meghan potremmo dire a sua discolpa se volessimo trovare una discolpa che insomma è un'attrice è chiaro che sa stamparsi in volto un sorriso ma a me nonostante tutto sembra genuino nel senso che l'aveva avuta vinta nella sua testa erano gli altri che stavano sbagliando nello snobbarla nel non riconoscere la sua grandezza l'utilità che avrebbe potuto avere per la famiglia reale e insomma non è non è molto bello mi state facendo domande su cose che sono accadute vi rispondo alla fine Francesca dice Meghan la quintessenza del male si Meghan una faccia di bronzo pazzesca diceva Eli veramente è triste che una famiglia perché parliamo di due fratelli una cognata che fino a qualche tempo prima era come una seconda sorella una sorella anzi per Harry che non sono felici e la nuova arrivata che invece se la ride perché alla fine come diceva anche Tom Bauer Meghan in passato non aveva mai avuto una famiglia unita aveva sempre disgregato un famiglio comunque all'inizio quando era piccola non era certo colpa sua il padre la madre le avevano fatto capire che ognuno per sé sostanzialmente ha sempre litigato con tutti quando non erano più dalla sua parte nella sua testa e quindi sì per lei che tutti stiano litigando è è una cosa quasi divertente dimostra che l'ha avuta vinta lei e in tutto questo però lei continuava a dirsi che è così innecessario che ci stiano mandando via eccetera dopo quest'ultimo impegno vanno vanno via insomma anzi sono gli ultimi giorni e Meghan sta salutando il suo staff quello che ha lasciato indietro e lo staff che poi penso che in generale abbia parlato male di lei perché sono loro che hanno fatto uscire le voci che si sono fatte conoscere come gli episodi di bullismo di Meghan Omid Scobie che era il suo praticamente il biografo ufficiale di Meghan diceva la duchessa cercava coraggiosamente di trattenere le lacrime ma non riusciva perché non era così che doveva finire questa storia avrebbe dovuto essere una finale felice pare che Meghan abbia detto ho abbandonato ho abbandonato tutta la mia vita per questa famiglia ero pronta a fare tutto quello che era necessario ma eccoci qui è tutto così triste vittima fino all'ultimo ma non avete anche bisogno di credere alle mie parole guardate la docu-serie Harry Meghan e lei ne parla così e anzi poi aggiunge quell'aneddoto che sembra inventato di sana pianta ovvero lei che va sull'aereo e un assistente di volo che si inginocchia davanti a lei per chiederle come sta sta bene e la ringrazio per tutto quello che ha fatto e lei è la prima persona che me lo dice vabbè lista delle cose mai successe Meghan appunto poi va in aeroporto lei si sente bullizzata vittimizzata da questa famiglia reale non compresa ma questi in-laws questi parenti inglesi acquisiti la ricordano più come un'avventuriera che era sempre irritata qui è stato negato il potere di dettare il proprio futuro nonostante tutti i tentativi di darle il benvenuto il matrimonio la casa lo staff i tour internazionali perché l'hanno mandata in africa e ovunque anche e i compiti limitati perché durante da quando era incinta di arce aveva fatto pochissimo e voleva solo gli impegni ufficiali più in vista lasciando quelli piccoli a tutti gli altri Meghan di fatto si era rifiutata di capire che la monarchia come istituzione in Inghilterra significava innanzitutto continuità non c'era posto per una persona che cercava di rovesciare mille anni di storia con un programma progressista quello che aveva lei ora non bisogna neanche di nuovo andare lontano basta guardare la docu-serie per capire che cosa voleva essere Meghan all'interno di quella famiglia reale i continui paragoni con Diana sia nella docu-serie che nel libro chiariscono che lei si credeva una novella Diana che proprio come Diana avrebbe rivoluzionato la monarchia e vedete qual è la differenza Diana lo faceva per gli altri nonostante tutto cioè il suo carisma e la sua popolarità erano quasi un by-product cioè un prodotto secondario del suo voler essere presente per chi soffriva era una persona che provava genuina empatia quello che voleva Meghan invece era semplicemente avere la popolarità che aveva lei facendo la filantropa la nazione i britannici intendo erano divisi in merito a chi sostenere Tom Bradby che poi è stato di nuovo il giornalista che ha intervistato Harry per la ITV alla vigilia dell'uscita di Sperra al tempo era totalmente dalla parte del principe disse che erano stati davvero fatti pochi tentativi per tentare di sanare le ferite che si erano create fra queste coppie Harry, Meghan William e Kate e la famiglia reale la famiglia reale non aveva affatto granché per tentare di riconciliare di riconciliarsi con questi ragazzi e Tom Bauer dice dalla parte di Harry e Meghan stavano tutti coloro che comunque molti tra coloro che al tempo avevano sostenuto Diana perché sentivano che Diana era stata abbandonata dalla famiglia reale che i Windsor non l'avevano protetta che i Windsor l'avevano osteggiata ed ecco che lo fanno di nuovo queste persone erano quelle che parlavano di opportunità persa con Harry e Meghan mentre invece c'erano poi i royaliste più sfegatati quelli che stavano assolutamente dalla parte della regina e che dicevano no guarda come hanno trattato male la regina la major part secondo Tom Bauer erano semplicemente perplessi soprattutto guardando alle dichiarazioni che Meghan aveva fatto trapelare in che senso aveva abbandonato tutta la sua vita per la famiglia reale se era stata lì tre anni in croce e a tutti noi piacerebbe abbandonare la nostra vita in quel modo intendo avendo soldi fama notorietà un matrimonio da principessa e via dicendo insomma ma no lei aveva mollato tutta la sua vita e rifacendomi a un discorso che fece al tempo paradossalmente nonostante io mi esprimo in questo modo la capisco nel senso che se un esempio per farvi solo comprendere se mi dicessero di mollare il mio piccolo canale youtube e di non dire più le mie opinioni perché devo entrare in una famiglia in cui insomma devo star zitta perché qualunque cosa io dica ha valore politico per tutta l'istituzione certo che mi peserebbe però io adesso tra l'altro ho anche un pochino più anni di quanti ne abbia Meghan bimbe non si è a una certa età dopo i 30 anni lei appunto era pure stata addirittura sposata non puoi dire a meno che tu non sia 19enne come Diana quando si fidanzò con Charles Carlo che non sapevi a cosa andavi incontro il primo pensiero che ebbi quando vidi che questa attrice si era messa con Harry mi domandai ma ce la farà nel senso che mi sembra una molto espansiva al suo blog la sua voglia di dire cose davvero vuole entrare in quella gabbia dorata perché è una gabbia dorata ed è questo quello che la risa antipatica a tanti nel senso che lei fa finta perché è una finzione infinita confermata poi anche da alcune sue amiche che dissero non era vero che non lo sapeva questo ah io non lo sapevo non potevo immaginare non è vero lo sapeva benissimo è solo che lei si credeva superiore a tutti gli altri e aveva pensato che sarò io a cambiarli col mio grande fascino quando capiranno quanto posso essere popolare famosa guardala la prima donna di semicolore diciamo così nella famiglia reale una ventata d'aria fresca lei lei sarebbe stata la novella Diana questa volta però una Diana che sarebbe stata accettata dalla famiglia così che quando non l'hanno accettata per me lei ha pensato ah beh anche Diana non è stata accettata e infatti è questa è la storiella che ha rifilato a Harry in continuazione nel senso che colpa loro colpa dei Windsor non nostra lo hanno fatto anche a tua madre le circostanze erano completamente diverse perché Diana certo non osteggiava la corona non ha mai osteggiato la corona come istituzione la osteggiava come famiglia nel privato perché il matrimonio con Carlo si stava dissolvendo se vi ricordate come andavano le cose se Carlo avesse continuato ad amarla secondo voi Diana sarebbe uscita dalla famiglia reale tra l'altro i suoi piccoli strappi al protocollo questo sembravano tutti naturali per esempio la corsa a gambe nude a piedi nudi scusate per nella scuola del figlio questo abbracciare le persone malate la casa reale osteggiava questi atteggiamenti mai no quello che Meghan faceva però era diverso mentre quello che faceva Diana non era un atteggiamento non creava divisioni nessuno poteva dire dopo che lei ha dato vita a questi gesti ah non doveva farlo perché ha fatto arrabbiare qualcuno ma chi se ha fatto solo cose positive che al massimo mostravano grande compassione quello che fa Meghan e lo dico nonostante io sia d'accordo con la maggior parte dei suoi principi però era dire ci sono modi di essere di pensare che sono più giusti di altri modi più progressisti e quelli sono gli unici giusti e nel dire questo lei praticamente diceva che il comportarsi in maniera differente in maniera più conservatrice era sbagliato e quindi offendeva un mucchio di persone questa era la differenza tra quello che faceva lei e quello che faceva invece Diana Silvana dice secondo me ha studiato a tavolino la vita di Diana per poi usarla per intortare Harry sembra di sì uno direbbe no dai è troppo machiavellico se voi andate a seguire un account tiktok che si chiama The Duchess of Sass che è un'attrice sembra di etnia indiana che interpreta Meghan e lo fa benissimo con la voce di Harry in sottofondo giuro che quando vedete gli spezzettoni così capite il livello di manipolazione tipo Meghan che mentre sta per partorire chiede a Harry di mettere la foto di Diana lì nella nella parete della stanza da in cui sta partorendo oppure e io non lo sapevo in un primo momento quando lei gli ha raccontato che voleva farla finita mentre era incinta questa era la stessa cosa che aveva fatto Diana a suo tempo a suo tempo Diana quando era incinta di William sembrava che volesse minacciare di buttarsi giù dalle scale avesse detto qualcosa di simile stessa cosa stessa cosa Graziella mi dice tu sei più giovane di Meghan io sì di un paio d'anni ma intendo che adesso ho più anni di quante ne avesse Meghan quando ho incontrato Harry io penso dice Black Raven che sia stata una scelta presa troppo in fretta lasciata una vita sotto riflettori che le dava tutto eppure ha scelto di andarsene per una vita da hater ma no non le dava tutto perché appunto se uno poi va a studiare nel dettaglio i suoi successi cinematografici erano davvero pochi stava per essere licenziata dall'unica serie tv in cui aveva avuto un ruolo ed era il suo breakout role quello che avrebbe dovuto lanciarla nel firmamento delle star e invece non stava riuscendo ad ottenere altri lavori Elena ricorda che Diana non offendeva e non sghignazzava le spalle della regina sì esatto Letizia mi dice devo correggerti Meghan ha un unico principio fare il bene di se stessa quando fa le sue dichiarazioni si limita a dire frasi fatte che ha imparato a memoria solo per apparire ciò che non è sì sì sono d'accordo scusate adesso bevo un attimo il mio tea spero che anche voi stiate bevendo un tè rigenerante mentre ascoltate questi pittigoletti ricordiamoci dice Ellie quando in spare Meghan ha chiamato Harry in lacrime perché i paparazzi le inseguivano solo a me è sembrato assurdo sì esatto chiama qualcun altro non lo so ti può aiutare in quel momento serve solo a metterlo in ansia c'è stata anche una foto quando lei aveva detto questa cosa che voleva farla finita lei poi ha raccontato poi quel giorno per essere coraggiosa sono andata all'impegno ufficiale che avevamo e ho dovuto mostrare buon viso a cattivo gioco eh ma intanto lei era sorridente lei poi dirà stavo recitando Harry invece invece era cupo era agitato perché lei aveva detto questa cosa orribile lei invece bugie bugie Diana dice mille che voleva solo essere amata dal marito se avessi avuto l'amore di Carlo sarebbe rimasta nella famiglia reale sì esatto e sarebbe stata una splendida regina tra l'altro ok non ho letto tutto quanto e mi capita spesso lo lo dico perché una di voi una ragazza che anche ieri mi diceva la stessa cosa non leggi non posso leggere ogni singolo messaggio Silvia Silvia ok andiamo avanti torniamo a noi che cosa stavano quindi per fare Harry e Meghan allora stavano per volare in Canada e la gente si chiedeva adesso che farà boh andrà a vivere una vita da semi reale nell'oscurità del Canada occidentale che faranno da lì non erano i piani di Meghan vi ricordo che quello che ci disse Harry al tempo è che il governo canadese gli ha tolto la sicurezza da un giorno all'altro loro non avevano disperatamente bisogno io lo disse persino alla guardia del corpo e loro erano disperati soprattutto perché si avvicinava il lockdown e allora che cosa successe successe Meghan ce lo dice che lei chiamò Tyler Perry quest'uomo produttore cinematografico che era amico di opera e amico di una delle sue agenti gli raccontò la sua storia in lacrime nonostante lo avesse non l'avesse mai visto praticamente lui le ha mandato un messaggio e lui che è una persona compassionevole la invitò a stare nella sua villa da otto stanze al Beverly Ridge nel quartiere Beverly Ridge vieni vieni e quindi con un volo privato addirittura sono andati all'improvviso da quella villa nel Canada a a Los Angeles nel mentre stavano trovando comunque una direttrice finalmente per la loro nuova fondazione alla loro nuova charity Archwell la direttrice era Catherine St.Loren condivideva questa persona la loro visione delle cose sapeva che Harry e Meghan volevano avere un impatto positivo per le cause a cui tenevano di più St.Loren aveva collaborato con Melinda Gates la moglie di Bill Gates che gestiva tante fondazioni e lo scopo dichiarato era far diventare Harry e Meghan degli influencer globali la mission della charity Archwell era liberiamo il potere della compassione al fine di creare un cambiamento culturale sistematico questa charity però non ne aveva di soldi ancora bisognava finanziarla chi è che l'avrebbe finanziata in generale a volte si possono raccogliere fondi da beneficiari non si capiva qui chi l'avrebbe fatto vi ricordo che quando si parlò di creare una charity o una foundation per Harry e Meghan in Inghilterra la famiglia reale impose loro dei direttori scelti dalla famiglia reale perché la fondazione si doveva chiamare Sussex Royal e il fatto che usassero il nome Royal alla famiglia reale non andava bene e inoltre praticamente il suo bilancio doveva essere completamente pubblico in ogni suo singolo dettaglio e questo Harry e Meghan non andava bene invece laddove avevano registrato questa istituzione adesso questa entità legale non era necessario fare una piena disclosure anche se poi sono usciti dei bilanci ma infatti mancano alcune voci non c'erano spiegazioni al tempo di come avrebbero finanziato questa charity né di come Harry e Meghan avrebbero finanziate le loro spese e pagato gli impiegati che avrebbero avuto non solo intendo le persone che le avrebbero aiutati nella loro vita quotidiana tate persone delle pulizie eccetera guardie del corpo e appunto i dipendenti che avrebbero lavorato a questa charity come li avrebbero pagati ma queste sono domande che ci facevamo noi comuni mortali loro sapevano benissimo prima di fare questo salto da dove avrebbero tirato fuori i soldi era tutto pronto per il nuovo capitolo della loro vita così come Meghan l'aveva definito e appunto a marzo volarono in gran segreto su un aero privato e si spostarono da Vancouver a Los Angeles a casa di questo produttore Tyler Perry questa villa era bellissima l'abbiamo vista nella docu-serie con un enorme spazio in tutto intorno non molto protetto ma al tempo nessuno sapeva dove erano finiti e se vi ricordate nella docu-serie si parlava di Harry che diceva tutti volevano sapere dove eravamo finiti e c'erano degli articoli sì erano usciti degli articoli mi permette di dire che allora il mondo si stava concentrato su qualcos'altro in quelle prime settimane di marzo si parlava della pandemia e lui ne parlava come se la loro vicenda fosse la cosa più importante vabbè in realtà la villa di Tyler Perry non era situata in teoria nei quartieri più lussuosi di Los Angeles però Megan dichiarò di sentirsi a casa e sì che le si credeva perché lei in pratica stava tornando a Los Angeles stava rimettendo piede a Los Angeles dopo nove anni che non ci viveva più e se avete ascoltato le prime parti di questo riassunto del libro di Tom Bauer ricorderete che lei ha provato a sfondare a Los Angeles a Hollywood insieme al primo marito Trevor Engelson per tanto tempo e non ha ottenuto niente e il marito il primo marito anche era uno che raccontava palle insomma ah sì saremmo grandi insieme saremmo famosi perché era un piccolo produttore e alla fine le ha aiutata a ottenere un ruolo e poi lei lo ha mollato e pensando di riuscire a fare più cose da sola ed eccola qui di nuovo teoricamente ricca Tom Bauer qui ci racconta poi un episodio che fa anche presente secondo me che le simpatie di quest'uomo sono un pochino potenzialmente anche conservatrici nel senso che dice che al tempo i due ebbero un piccolo screzio mediatico in un certo senso un botta risposta con Donald Trump che dichiarò pubblicamente il presidente l'ex presidente degli Stati Uniti disse guardate noi qui in America non pagheremo per la loro sicurezza se vengono qui quando si scopre poi che erano su solo americano e Megan disse nessuno ve l'ha chiesto e aveva detto a suo tempo altre cose negative sul presidente non volete il mondo che sta creando per noi quest'uomo sta creando per noi io trovo Megan una persona orribile o terribile però sono d'accordo su questo se c'è una cosa che Trump ha fatto soprattutto per il genere femminile è peggiorare lo stato delle cose negli Stati Uniti con le sue leggi con l'aborto ad esempio con il suo eleggere un giudice conservatore per il per il per la Corte Suprema quindi sì Megan aveva ragione su questo al tempo però Trump che comunque penso che cominciasse già a vedere crollare la sua popolarità a quel tempo Megan e Harry erano popolarissimi negli Stati Uniti disse che anche se lei era stata cattiva con lui lui non voleva esserlo di rimando perché Megan dopo tutto stava facendo un buon lavoro e le augurava una buona vita perché la trovava molto gentile very nice e quindi in questa circostanza Trump fece la figura del gracious cioè di quello che scorgeva l'altra guancia e Tom Bauer ci dice e invece di mostrarsi gentile a sua volta Harry disse che Trump stava fomentando finanziando l'industria del carbone negli Stati Uniti e aveva quindi le mani sporche di sangue vero anche questo nel senso non mi sembra un buon esempio Tom Bauer comunque Tom Bauer poi stava riflettendo sulla cosa come poteva essere la vita in California per questi due Megan vi dicevo ci tornava dopo nove anni da ricca ecco Los Angeles sono città come tutte le città immagino che offre il suo meglio a chi ha soldi e lei ora poteva permettersi di fare la mamma new age o quasi insomma quella che si preoccupava del cibo organico del wellness poteva stare con le altre mamme ricche godersi le spiagge di Santa Barbara e soprattutto spingere Harry a vedere quello che c'era di positiva nella loro nuova situazione non era meglio questo il sole della California piuttosto che andare a stringere mani su comando della piovosa Inghilterra ora finalmente erano liberi e indipendenti e lei poteva offrirgli una vita eccitante e piena di rewards di ricompense soprattutto emotive perché se c'era una cosa che sicuramente ha spinto Harry a non essere mai soddisfatto era che lui si sentiva spera ruota di scorta quello che non era mai in primo piano invece lei aveva offerto anche questo vieni con me seguimi e saremo noi le star era questo quello che Harry voleva più di tutto però quali erano le prospettive immediate nell'immediato nel primo periodo in cui stavano lì Tom Bauer ci dice beh tutti volevano essere amici di Harry e Meghan o meglio volevano tutti invitarle alle loro feste le matrone di Hollywood non vedevano l'ora di invitare un duca e una duchessa ai loro ritrovi e erano una novità però nel lungo periodo come sarebbe andata la cosa sarebbe dipeso tutto dal messaggio che avrebbero veicolato da come si sarebbero posti da che lavoro avrebbero fatto in un certo senso che cosa volevano essere e quindi questo era molto importante secondo Tom Bauer il lavoro che aspettava Catherine Saint Laurent questa tizia o Saint Laurent non so come si pronuncia sia alla francese o all'americana era comunque duro perché i suoi nuovi datori di lavoro erano persone molto sensibili alle critiche come avevano scoperto bene le persone che erano nel loro staff in Gran Bretagna non non li si poteva criticare non si poteva cercare di frenarli si aspettavano che tutti coloro che lavoravano con loro fossero ossequiosi e che non li criticassero appunto e quindi lei doveva trovare celebrities che fossero d'accordo con i loro principi non solo con quelli perché tanti sono d'accordo con i loro principi ma con il loro modo di agire e questa si rivelava una sfida molto complessa paradossalmente forse avremmo visto una cosa completamente diversa se non ci fosse stato il covid perché loro erano appena atterrati negli Stati Uniti e magari si sarebbero dati più da fare avrebbero imbastito servizi fotografici intendo con loro di nuovo che andavano a fare beneficenza da qualche parte ma non era possibile perché stava chiudendo tutto quanto questo loro rilancio d'immagine viene fermato dall'emergenza sanitaria in corso su raccomandazione della Sunshine Saks che è l'agenzia che curava gli interessi di Meghan e adesso anche di Harry i due postano sulle loro pagine Instagram un messaggio che rivaleggiava con quello della regina nel senso che la regina al tempo si era rivolta ai suoi sudditi come Mattarella si rivolse agli italiani come Conte si rivolse agli italiani per dire insomma è un momento difficile resistiamo la regina aveva detto in particolare una frase molto pregnante ci rincontreremo ancora resistete qui dissero ci riabbracceremo la regina disse we'll meet again ci rincontreremo ancora quindi pazienza sopravviveremo e la Sunshine Saks consigliò a Harry e Meghan di fare anche loro una sorta di loro messaggio io ricordo molto bene questa cosa che sembrava quasi che parlassero anche loro come capi di stato o comunque qualcosa ma chi vi si fila cioè sulla base di che cosa pensate che qualcuno voglia ascoltarvi in questa veste sembravano volessero darsi un'area istituzionale e scrissero nella loro pagina condivideremo informazioni e risorse per aiutare tutti quanti noi a muoverci meglio in questa incertezza pubblicheremo informazioni accurate e le misure adeguate per mantenere noi le nostre famiglie sani Tom Bauer li definisce audaci nel senso che esattamente dall'alto di quale scranno potete dire voi che cos'è accurato anche qui mi sento di criticare un ciccinino Tom Bauer nel senso che c'erano molte troppe persone che allora non credevano alla scienza e quindi affidandosi alla scienza quantomeno si poteva parlare con un po' più di cognizione di causa a fine marzo poi lasciano un messaggio di addio per i britannici in generale nel senso perché in quel periodo lì finiva ufficialmente il loro periodo di transizione e loro stavano dicendo noi non torniamo comunque però i britannici dissero non vediamo l'ora di riconnetterci con voi siete stati grandi comunque fino ad allora prendetevi molta cura di voi stessi e l'uno dell'altro Harry e Meghan nel senso era di nuovo un messaggio di sostegno nel periodo difficile della pandemia i britannici al tempo erano molto critici della coppia un editorialista in particolare di un tabloid o di un giornale scrisse che questa coppia mancava di umiltà e di coscienza di sé nel 2020 disse non ricorderemo i loro messaggi preconfezionati bensì il discorso profondamente ispiratore e commovente della regina il suo ci incontreremo ancora nel momento più grave della pandemia se non fossero stati così pieni di se stessi disse questa persona e questo è un buon appunto Harry e Meghan avrebbero potuto essere d'enorme aiuto in questa crisi immaginatevi Harry che parla in prima persona ai sanitari in prima fila per far vedere tipo come fece sua madre che insomma bisogna dar pubblicità a queste persone a questi veri guerrieri di questa battaglia oppure Meghan che faceva vedere a tutte le donne come si poteva essere anche fascinose con una mascherina quindi incitando le persone a indossarla ma no non sapeva da fare questo perché queste due celebrità autoreferenziali hanno lasciato fare il lavoro duro alla nonna scrisse questo giornalista ora ci sembrano solo superficiali triviali vuoti al di fuori della famiglia le cose sono niente è un è una bella non è anche frecciata un attacco proprio in piena regola e Tom Bauer concludeva questo capitolo il capitolo 38 del suo libro dicendosi beh almeno Meghan poteva dirsi che non doveva più preoccuparsi di sedersi con le gambe incrociate no poteva sedersi come voleva però nel mentre aveva rovinato tutto il resto Antonella dice Meghan come Alladin alla principessa Jasmine ti fidi di me Michele dice il rispetto va dato prima che pretesa a quanto pare non si incide bene nella memoria purtroppo di entrambi una cosa buona diceva Letizia almeno il covid l'ha fatta Laura mi chiede perché secondo me non hanno più usato Instagram e magari aprendo un profilo della Archwell probabilmente perché se voi andate a vedere i loro messaggi quelli che lasciarono all'inizio sono ancora tutti lì perché cancellarli significherebbe dare un segnale negativo loro hanno dovuto togliere i commenti perché sui social ci si aspetta che i post siano liberi da commentare e invece erano pieni di haters o comunque di critiche o anche se non fossero pieni di critiche ma ne avessero solo qualcuna loro non li possono sopportare è stato detto mille volte da tutte le persone che gli stavano intorno che loro erano molto sensibili alle critiche e quindi no Instagram significa aprirsi al giudizio delle persone e loro quello che vogliono come pienamente dimostrato di nuovo sia in sper che nella docuserie è poter parlare senza sentire quello che gli altri hanno da dire su di loro il che sarebbe normale se parlassero di argomini no neanche di argomenti ma loro parlano di loro stessi dicendo alla gente di avere una buona opinione di loro e poi non sono disposti ad ascoltare quando la gente non ha la loro stessa opinione Merisana dice mi sa che si è scordato che gli USA sono una repubblica sì infatti la verità è che sono entrambi in un'enorme bolla di sapone tante parole pochi fatti esattamente e siamo al capitolo 34 paradiso il momento in cui i due si comprano la villa a Montessito 18.000 piedi quadrati 14 bagni 9 stanze 8 acri di terreno un cinema una palestra una spa un campo da tennis una piscina un cottage per bambini una casetta per gli ospiti di due stanze e un garage per 5 macchine se vi ricordate come la pose Harry nel suo libro diceva oh è stato un affare perché era costata poco al tempo il minimo indispensabile a momenti no? è perché tutti abbiamo bisogno di tutto questo finalmente ci dice Tom Bauer Meghan ha il suo palazzo e in tutto questo a parte il la casa in sé guardate che la scelta Meghan perché è stata lei non solo per questo per per le caratteristiche dell'abitazione ma per dove si trovava quello che gli americani sanno fare molto bene è fare network cioè loro sanno che i lavori si ottengono attraverso gli amici le conoscenze se sei ben inserito in un giro poi è difficile che tu ne esca loro ci stanno quasi riuscendo però è difficile che tu ne esca e i loro vicini erano la chiave per il loro futuro i loro vicini erano Ellen DeGeneres che è una famosissima presentatrice americana adesso un po' meno famosa perché si è scoperto che pure lei è una bulla però ha ancora la sua influenza c'era opera nelle vicinanze c'era Gayle King che era quella giornalista che aveva fatto fare un'intervista a Meghan che aveva già avuto qualche piccola esclusiva con lei c'era Ted Sarandos il responsabile del budget Netflix vicini di casa quest'uomo era anche marito di Nicole Avant che era la prima ambasciatrice di colore americana inviata alle Bahamas e questa donna era figlia del presidente della Motown che è questa casa discografica se ben ricordo noto come il padrino nero a poca distanza c'erano Gwyneth Paltrow Katy Perry e David Foster altro produttore musicale con la sua quinta moglie Catherine McPhee che era quasi dell'età di Meghan anzi un pochino più giovane addirittura guardate cosa disse a Meghan al tempo Harry e David sono diventati subito molto amici sono così carini sembrano padre e figlio lui è un padre ce l'ha lei sta vedete questa è manipolazione sta cercando di dire ci sto trovando io una nuova famiglia scusatemi l'interruzione avevo una sete infinita in UK si dubitava parecchio che la loro storia potesse durare pensavano tutti che un giorno Harry avrebbe visto cadere la maschera di Meghan e un po' era successo per lui così come era successo per Edoardo VII che abdicò per mettersi con Wally Simpson ma Tom Bower ci dice i britannici in realtà non avevano capito bene Harry al tempo perché l'immagine che avevano di lui era quella che gli aveva rimandato la famiglia reale che aveva smussato tutti gli angoli peggiori di Harry non avevano capito fino a che punto era viziato e gli ho focalizzato su se stesso non avevano compreso che lui lontano da lì stava benissimo che preferiva immaginarsi in un ruolo centrale piuttosto che come seconda ruota di scorta oramai dopo anzi questa ruota di scorta dopo tutti i nipoti in un paese che non gli aveva mai dato davvero quello che lui sentiva di meritare lui si sentiva libero in america dalla stampa britannica che lo aveva ossessionato questo si nel senso che la stampa britannica aveva le sue colpe lui aveva poi anche per via di tutto il suo vissuto una sorta di ossessione certificata anche da una psicologa barra psichiatra e poi era libero anche dai dettami di The Kensington Palace e pensateci non doveva neanche lavorare Meghan Meghan occupandosi di tutto e dicendogli solo di essere d'accordo e stava creando la vita che lui ha sempre voluto cioè fare quello che gli pareva quando lo diceva lui e nel mentre vivere negli agi per forza l'ha lasciata fare Henry non aveva alcuna intenzione di tornare dopo tutto a differenza di quel suo avvo non era l'erede al trono non aveva abdicato non aveva rimpianti cosa stava abbandonando un ruolo appunto di secondo piano in Gran Bretagna per farsi una vita altrove posto che adesso dopo tre anni alcune notizie dicono che lui chiami il padre Carlo tutti i giorni perché ha nostalgia dell'Inghilterra quindi chi lo sa comunque Meghan in quel periodo inizio 2020 quando se n'era appena andata dagli Stati Uniti in America è potentissima a livello mediatico tutte le persone che hanno visto il suo lato negativo quelle che Tom Bauer ha intervistato qui non hanno alcuna intenzione di parlare perché appunto in America conta tantissimo il network se tu ti metti contro una persona potente per quanto questa persona sia negativa lo scrutino delle persone ricade su di te che sei un signor nessuno non su di lei Meghan con una singola parola poteva rovinare le carriere e infatti un attore di Switz disse no in questo momento non voglio parlare di Meghan ma magari pensavano qualcosa di negativo di lei adesso la popolarità di Harry Meghan è scesa tanto però guardate che se voi andate su TikTok che è il social dei giovani ci sono ancora tantissimi che credono alla loro storiella secondo cui loro stanno semplicemente vivendo la loro vita felice e invece loro questa coppia vive rent free cioè senza pagare l'affitto nella testa degli haters che sono ossessionati con loro mentre loro si stanno semplicemente facendo i fatti propri tutta questa gente sembra dimenticare che questi due hanno scritto un megalibro un libro e una doc serie per raccontare la propria vita agli altri e sparlare male di altre persone la famiglia reale il modo di vivere la propria vita felici piuttosto adesso i due sono intelligenti in questo momento nel senso che hanno capito che l'unica cosa che possono fare per rimediare secondo me a Meghan sta rodendo dentro tantissimo ma in questo momento il meglio che possono fare per controbattere è non fare più niente e far finta di essere felici e non preoccuparsi di nessun altro perché se provano anche solo di nuovo a controbattere allora danno ragione ai loro critici però secondo me Meghan insomma sta un po' rodendo questa cosa le risulta molto complessa perché lei vorrebbe parlare Harry al tempo cominciava a invischiarsi nella nel movimento Black Lives Matter cioè Black Lives Matter le vite nere contano Meghan ovviamente lo supportava appieno siamo nel luglio 2020 già quindi erano passati diversi mesi Meghan aveva fatto dei discorsi mentre distribuiva i Diana Awards premi Diana e Harry praticamente copiava le sue frasi uno potrebbe dire perché ci crede ed erano bei discorsi comunque diceva che gli dispiaceva per quello che le persone di colore dovevano sopportare bisognava assolutamente diventare consapevoli dei pregiudizi inconsapevoli unconscious bias vedete poi che Harry una volta che ha imparato una nuova frasetta la utilizza Iosa in continuazione poi l'ha utilizzata in seguito anche dalle sue interviste nel suo libro Harry inizia ad attaccare a quel tempo il Commonwealth definendola un'istituzione colonialista e razzista con una storia insomma imbarazzante a me viene da dire che un po' lui era un wannabe nel senso che Meghan gli diceva questo devi dire per farti apprezzare dalle persone e lui lo faceva cosa non si fa per piacere e con queste idee uno adesso lo si può contestualizzare meglio no? con queste idee qui se tu davvero pensi queste cose volevi rimanere all'interno della famiglia reale britannica lui dice e di nuovo sempre lo stesso concetto e poi lo ha riferito anche a se stesso non c'è modo di andare avanti finché non si prende coscienza del passato lo ha ripetuto in continuazione lui ha detto che ha detto quello che ha detto in spare perché bisogna prendere coscienza del passato dicendo alla sua famiglia voi dovete accettare di aver fatto degli errori solo così possiamo andare avanti e se no non possiamo ma vedete che è sempre lo stesso concetto è come se avesse avuto un'illuminazione e adesso tutto si deve adeguare a questo nuovo schema di pensiero queste critiche che loro facevano al Commonwealth che hanno una loro base sensata ok solo che è strano che vengano proprio da loro pare che fossero incoraggiate dal capo esecutivo del Commonwealth Trust ovvero tale Nicola Brent Nalla che viene licenziata oppure si dimette in seguito insomma questo appoggio a queste idee perché di nuovo era una presa di posizione divisiva in teoria è come se stessi dicendo la famiglia reale è razzista cosa che poi questi due faranno secondo Tom Bauer dice la cosa è confusa in maniera fondamentale nel senso che loro confondono il Commonwealth con l'impero britannico e sono due cose diverse anche se chi è nel Commonwealth specie dei Carabiti direbbe che non è così Omid Scobie il biografo ufficiale di Meghan è totalmente d'accordo con Harry and Meghan secondo lui lui è molto più caustico che il Commonwealth esiste per tenere alta la supremazia britannica bianca scusate un mese dopo Harry e Meghan si correggono parzialmente eh sì perché fino a neanche un anno prima Meghan era vicepresidente del Commonwealth Trust e adesso vai a dire in giro che è un'istituzione razzista eh e allora se era razzista e tu lo sapevi un anno prima non lo sapevi lo hai accettato per quale motivo eh lei dice come un po' fa adesso prima ti lancia al sasso e poi ritrae la mano che in realtà lei era orgogliosa del lavoro fatto per il Commonwealth Trust sì sì e poi però va a dire quello che ha detto specialmente nei Caraibi allora montava una fornace di risentimento nei Caraibi contro i Britannici che rifiutavano richieste di risarcimento per la tratta degli schiavi infatti questa presa di posizione di Harry e Meghan non aiutò poi il tour che William e Kate fecero in queste parti del Commonwealth dove vennero rischiati o comunque trattati male e loro ci rimasero un po' male però fecero un buon viso a cattivo gioco non mi sento di entrare nel politico da questo punto di vista perché non ne so abbastanza posso dire di non essere d'accordissimo con questo modo di porsi di questi popoli dell'ex Commonwealth ma sono più mie idee politiche che magari posso sviscerare in una prossima diretta chiacchiere e intanto mentre loro fanno questi discorsi ispiratori sul razzismo eccetera eccetera in realtà se ben ricordate nel 2020 i lockdown si succedevano in continuazione a seconda dei paesi a seconda delle ondate in estate almeno così ci ricorda Tom Bauer ci fu un altro lockdown in Inghilterra c'erano morti l'economia era incaduta c'era una insofferenza generalizzata si stava male se vi ricordate in Inghilterra avevano vaccinato meno e infatti continuava insomma questo questo incubo senza fine allora pareva così e da Montecito Harry incitava il governo britannico comunque la Gran Bretagna a fare di più per i bambini malati e questa cosa non aiutò la loro popolarità nel senso che il numero di gente il numero di persone la percentuale di persone che non approvava la figura di Harry salì dal 35 al 47% in quel periodo quelli che non approvavano Meghan passano dal 46 al 59 invece la gente che approvava l'operato della regina la figura della regina era ben l'83% e per quanto riguarda William e Kate anche loro erano molto in alto William era l'80% quindi figure molto amate invece quanti approvavano Harry e Meghan? 30% però e sicuramente questo sanava l'ego di Harry e Meghan in America continuavano a essere molto popolari infatti vi dicevo che secondo me l'hanno presa proprio male quando la loro docu-serie non ha dato i frutti previsti Michela diceva quale lavoro? io mi sono accorta sull'ora che i diagrammi di Harry e Meghan sono gli stessi della catena Candy ora passo a leggere la vostra chat perché ho terminato il racconto di questa sera mentre parlo vi lascio con il video che vi stavo mostrando prima quello in cui potrete vedere la faccia con cui William e Kate snobbano a Meghan eccolo qui alla al Commonwealth dei Service vediamo le vostre osservazioni ah Julie dice chi ha esaminato il loro linguaggio del corpo ha notato che i due sembrano fingere Michela dice nella foto che è mostrata nella sezione community posso dire che Harry non mi pare molto felice ah sì ok magari adesso mostro anche quelle foto anche se volevo più fare uno short anzi no farò uno short in merito quindi iscrivetevi al mio canale così vedrete domani questa un mio commento in breve con foto fotografie di dell'appuntamento che Harry e Meghan hanno avuto sembravano felici finalmente diceva Penny riesco a assistere ad una live ciao Michela diceva che Harry e Meghan nella foto insomma sotto la pioggia sotto l'ombrello erano in scala di colore Letizia dice quel vestito le stava veramente male soprattutto visto da dietro sì e lei è una figura a mela che era un po' difficile valorizzare a volte effetto fidanzatine diceva Maria Rosaria eh sì ci voleva ciao Francesca sono qui a scoprire gli abissi di turpitunine della Megaymon ho scoperto dice Virna su TikTok un ragazzo che fa la parodia di Harry mi fa morire dal ridere un ragazzo inglese sì che ha il suo stesso accento quasi si è meraviglioso Giul conferma che secondo lei Meghan non sa proprio vestirsi le sta malissimo questo vestito possibile che nessuno glielo dica il problema è che probabilmente un mucchio di gente vuole dirglielo ma nel momento in cui non le dicono che è bellissima che sta benissimo lei li manda fuori e non collaborano più con lei alla fine lei ha vi ricordate il vestito rosso che aveva con le coppe tra l'altro fatto su misura cucito per lei le stava malissimo non non le riempì il suo seno non riempiva quelle coppe non era ben non era ben stretto nel punto vita il suo punto vita era più basso ma com'è possibile cioè ti fai fare un vestito da dei sarti e non ti possono nemmeno dire questo questo è un adesso vi ritrovo di nuovo questo vestito per farvi capire perché è proprio un sintomo del problema di cui stiamo parlando nel senso che com'è possibile che una donna comunque molto bella che ha tutti questi soldi tutta tutta questa tutta la possibilità di avere tutti questi collaboratori non abbia nessuno che le dice che c'è qualcosa che non va insomma in queste scelte di vestiero che fa ecco il vestito in questione succede perché se non sei tu che sei umile in prima persona che accetti delle critiche tu hai completamente il potere di allontanare le persone che ti dicono cose che non ti piacciono questo le sue scelte sbagliate di fashion guardate cioè la fa sembrare più grassa di quello che è quel tipo di coppa lì va bene per una persona con una bella scollatura i suoi seni non riempiono quelle coppie com'è possibile un vestito fatto su misura l'abbiamo vista in Harry e Meghan nel documentario in cui il momento in cui glielo mettevano addosso perché perché lei non accetta qualcuno che le dica qualcosa che a lei non piace se lei ha deciso che una cosa è così lei ha deciso qual è la sua verità allora le cose stanno come dice lei e poi si danneggia da sola vediamo cos'altro stavate dicendo Julie dice le sta male perché Meghan non ha una vita sottile allora senza fare body shaming assolutamente perché ognuna di noi ha il suo fisico e a meno che non siamo supermodelle nessuno di noi nessuna nessuna di noi è perfetta o perfetto ci sono abiti che valorizzano diverse body shape e basta semplicemente trovare la propria body shape in genere noi comuni mortali facciamo fatica perché non abbiamo uno stylist ma se uno si affida uno stylist lo stylist guardandoti in faccia sa dirti no questo ti sta malissimo scegliamo quest'altra cosa qui anche se magari non fa parte del tuo stile e invece lei sembra non ascoltare per la maggior parte d'altronde al giubileo di Platino dice Letizia Harry è rimasto di stucco quando ha dovuto sedersi dietro Rossella mi ha chiesto hai visto la foto di Megan che gira su tiktok sì non è stata una foto in realtà è una sì ve la faccio vedere parliamone brevemente lei è apparsa in un piccolo video per presentare un suo amico una che cos'era un film maker un regista così e oh a me sembrava peggiorata questo di nuovo senza voler essere cattivi ma proprio l'armocromia questa sconosciuta e sembrava che avesse fatto qualcosa un ritocchino e pensavo non era necessario ma magari sì a me sembra che abbia tirato un pochino gli occhi e inoltre perché ha colorato i capelli di quel colore così non va bene per la sua pelle le sta molto meglio il nero è anche possibile d'altronde e in questo caso ci sarebbe solo da comprenderla che insomma il tempo passa per tutti ed è difficile mantenere una tinta nera se cominciano ad apparire i primi capelli bianchi e magari si è bellissima normalmente ma anche lei sta superando i 40 e magari avrebbe bisogno magari ha fatto un qualche ritocco posto che nelle foto che si sono poi viste di lei con Harry la luce era bassissima però sembrava avere di nuovo capelli neri quindi e non sembrava questo effetto così falsato magari aveva qualche filtro può darsi anche perché così sta proprio male con quel colore di capelli sta male però di nuovo magari sta solo affrontando i problemi di tutti noi comuni mortali vediamo cos'altro state dicendo eravate pronti avete allacciato le cinture quando vi ho fatto vedere il video Letizia dice in quell'occasione al Commonwealth Day Service Sophie è lanciato a Meghan un'occhiata glaciale mitica la reazione dei Cambridge dice Ellie un gelo che manca in Siberia un sorriso goduto quello di Meghan diceva Antonella di chissà di aver ottenuto quello che voleva Silvia mi diceva io ci provo a stare sul pezzo è complicato ma ci provo io come dicevo come stai vedendo Silvia rispondo a tutti dopo un po' magari sorrideva per l'imbarazzo dice Jill può essere può essere anche questo solo che uno prova a scusarla una volta due volte tre volte alla fine vedi un pattern nella foto dice Ellen quella quella natalizia della copertina di questo video hanno tutti un viso tirato tranne Meghan che secondo me non ha molte consapevolezze a parte quelle dei suoi bisogni lo staff o altrimenti i detti diceva Sofia i sopravvissuti di Meghan Meghan è un'attrice ma nel senso naturale del termine diceva Daniela deve sempre parire vincitrice il costo non importa Francesca diceva la tristezza di tutto questo è che a bocce ferme quando lei avrà ottenuto tutte le ottenibili e avrà fatto deserto intorno a Harry con il napalm della sua malvagità forse a Harry non resterà nulla si viene quasi da pensarlo però di nuovo non togliamo a Harry le sue colpe perché lui in questo piccolo stagno che ha costruito lei ci sta sguazzando molto felicemente e non è un bambino è un uomo adulto è un uomo adulto che in prima persona ha permesso a sua moglie di parlare male della sua famiglia e poi si arrampica sugli specchi dicendo no mia moglie non ha dato dei razzisti ai reali sono stati giornali intanto però tu ti sei preso dei premi per aver compattuto il razzismo sistemico allora se davvero i giornali ti avevano frainteso non prendevi quel premio un'arrampicata sugli specchi unica alla fine no è stato anche Harry non si può dire che non si stia costruendo la sua tomba se davvero è tale Gioia dice che secondo lei hanno dato troppo a Meghan e questo è il problema forse hanno dato troppo a Harry al tempo e non gli hanno permesso di valorizzare i vantaggi che dava la sua vita Francesca mi diceva bravissima lei è stata peggio di un corsario più perniciosa delle cavallette più devastante di uno tsunami io comunque dice Sofia me lo aspettavo sino nel matrimonio che Meghan durava pochissimo nella famiglia reale mi è sempre sembrato che avesse bisogno di esprimersi io speravo che non durasse poco più che altro perché l'idea della favola non mi dispiaceva e sarei stata felice per Harry Letizia dice lo sappiamo tutti cosa voleva essere la regina sì esatto quello sarebbe stato il suo vero sogno Michela dice Meghan voleva essere il centro è un perno che si è sempre affannata a raggiungere ma ancora non ha capito che il carisma è quindi l'essere un esempio o un icone qualcosa che non ci si arrabatta a raggiungere con la forza proprio così Sofia diceva Diana metteva sempre in luce le cause esatto lei non era lì per mostrarsi voleva mostrare la causa poi i giornali si concentravano sui suoi vestiti e sulla sua classe ed eleganza ma lei di suo si capiva che voleva mettere al centro le persone che era andata ad aiutare è vero El dice Gioia ma se accetti di sposare un principe deve accettarne le regole altrimenti tre ne vai sì oppure addirittura non ci entri neanche io dico sempre che se davvero fosse stata una persona sincera poteva dire a Harry ascoltami io questa vita io lo so già lo vedo da fuori non ci voleva un genio io non ce la farò qui e quindi non possiamo stare insieme e magari lo avrebbe spinto a uscirne prima perché lui l'avrebbe fatto penso alla fine Giannara diceva Meghan l'irreducibile attrecetta straniera bruciata dal fuoco di mille magagne come incipit di una nuova serie mica male io penso Black Raven che sia stata una scelta presa troppo in fretta quella di entrare nella famiglia reale ha lasciato la vita sotto i riflettori che le dava tutto a questa l'avevo letto prima anche Grace Kelly dice Virna ha dovuto rinunciare alla sua vita e lei sì che aveva una carriera lei sì Grace Grace ha fatto una follia o era molto innamorato o era stufa di recitare chi lo sa però almeno è stata coerente ha proprio rinunciato a tutto Jill faceva notare che Meghan non ha rinunciato proprio a nulla solo guadagnato ha vinto la lotteria Francesca faceva notare che Grace Kelly era un premio Oscar questa è a malapena una top sul grande schermo di Hollywood ricordiamoci quando in spare Meghan ha chiamato Harry in lacrime perché i paparazzi la inseguivano diceva Eli questa l'ho già letto prima Diana voleva solo essere amata dal marito se avesse avuto l'amore di Carlo sarebbe rimasta nella famiglia reale questo era quello che dicevamo prima ciao Vittoria ciao Giacomina domanda pragmatica chiede Shannara sarebbe conveniente per una qualsiasi produzione assumere Meghan Markle voglio dire pubblicità gratuita a parte le major americane si ritroverebbero tutto il pubblico contro ma guarda che posto che sembrava che Meghan non stesse neanche più cercando parti d'attrice ma no no perché in questo momento la sua figura non può recitare è sempre a prescindere anche se fosse un'attrice bravissima la gente avvenirebbe per prima cosa Meghan Markle il personaggio non può essere qualcun altro e lo sanno tutti ormai purtroppo può essere solo se stessa purtroppo per le produzioni intendo e quindi no non ha senso Lella dice che pare che Meghan debba 7 milioni di dollari a Perry si è fatta dare un prestito che non ha rimborsato ah sì no questa voce non l'avevo sentita però fino a poco fa Perry era ancora loro amico nel senso che è stato il padrino di Archie Lilibet non mi ricordo però era lì presente quest'anno è stato quindi non non penso che stia insistendo per riscuotere questo debito Gioia dice Elma sei sicura il bilancio delle fondazioni devono essere pubbliche non potete ragionare basandovi sulla legge italiana varia a seconda dell'istituzione innanzitutto non è una fondazione infatti è una charity è una cosa diversa come ci spiegò una volta una tiktoker che lavorava in quel giro lì delle fondazioni di beneficenza disse che Archwell non era una fondazione di beneficenza ma era un'istituzione che si proponeva di aiutare fondazioni di beneficenza e quindi sostenendole dando soldi a queste persone qui come se fossero loro stessi a darli quindi per questo erano meno soggetti a controlli Joel dice in America Meghan potrebbe davvero trovare lavoro magari come presentatrice in qualche talk show tra qualche annetto probabilmente ah sì quello sicuramente le piacerebbe vorrebbe riciclarsi così è stata una podcaster sì sì finirà a fare la Kardashian come si chiamava la matrona delle Kardashian che ha fatto il suo talk show sì probabilmente quello sarebbe una cosa che riterrebbe adeguata perché avrebbe il pieno controllo della propria immagine sto arrivando quasi agli ultimi momenti il punto diceva Merisana è che proprio Harry era convinto di diventare un royal negli USA con una sorta di regno suo come Massimiliano D'Osburgo accetta il regno missicano per non essere lo sper di Franz Joseph interessante come riflessione si può darsi sì ma sappiamo che fine ha fatto Max dice Ellie ah ti riferisci a quel principe d'Osburgo sì finì ma io continuo a non capire diceva Daniela come Harry immagini di sopravvivere a lungo termine come personaggio la vena royal si esaurerà ora è fuori non è nessuno senza il suo ruolo se cercate di capire Harry dalla sua biografia vedrete che lui non ci pensa tanto a queste cose non è mai stato abituato a badare da solo a se stesso da solo lui ha cercato qualcuno che si occupasse di lui perché lui paradossalmente se fosse una donna sarebbe stato molto più felice perché almeno sarebbe stato socialmente accettato per lui essere la moglie trofeo di qualcuno di fatto adesso è il marito trofeo di Meghan in un certo senso ha ricordato della casa di Montesito una vasca con i pesci coi se non ricordo male i pesci i pesci che si stressano ah intendi la casa di Tyler Perry praticamente è un villaggio diceva Black Raven con quanti mobili che ha mi chiedo una villetta molto modesta per me perché non metterci le orche nel laghetto le carpe sono stressate i problemi da ricchi cheat spera ah si si è vero questa sciocchezza mi chiedo dato il loro standard elevato diceva Michaela perché non abbiano direttamente saccheggiato il piccolo popolo chiedendo di portarsi Nessi direttamente in giardino eh Nessi il mostro di Loch Ness quando verrà a mancare Carlo diceva Michaela Harry si troverà scalzo e nudo perché William non cederà come il padre e se Harry rancoroso perché volate William lo sarà per giusta causa sono abbastanza d'accordo a meno di miracoli secondo me William se la porta dentro Letizia dice una cosa molto giusta ringraziamo South Park per aver cambiato le cose non è stato proprio South Park cambiare le cose nel senso semplicemente South Park questa serie satirica animata americana canadese non mi ricordo comunque nord americana ha reso chiaro che si poteva ridere di Harry e Meghan perché molte persone privatamente stavano già ridendo di loro e magari non avevano consapevolezza di poterlo fare perché magari appena provavano a dire qualcosa di negativo i lovers il contrario degli haters i fan di Harry e Meghan sui vari social che sono persone molto giovani e molto attive gli davano addosso dando loro dei razzisti invece South Park li ha definiti come persone che sfruttavano la loro la loro nuova vita il world privacy tour il tour mondiale della privacy nel frattempo dicevano a tutti non guardateci ma intanto sempre lì davanti li hanno denudati nelle loro ipocrisie e quindi sì se non fossero stati loro sarebbe stato qualcun altro infatti qualcuno aveva già iniziato a prenderli in giro qualche comico famoso che quindi non temeva retaliations cioè ripicche perché erano abbastanza potenti da poter prendere in giro chi pareva loro e non erano stati criticati quindi South Park ha capito che si poteva fare ma se Harry dice Joy avesse mandato a quel paese tutti e se ne fosse semplicemente andato sarebbe andata benissimo avrebbe avuto il mio sostegno solo che non è così lui voleva tutto infatti avrebbe avuto anche il mio sostegno se avesse deciso di andarsene e farsi una propria vita l'avrei applaudito significava che lo capisco che quella vita era una gabbia lo capisco che lui poteva voler vivere come un adulto senza più persone che gli dicevano che cosa doveva fare come perché ma no lui voleva poter avere quella vita però che gliela finanziassero ancora la nonna e il papino sostanzialmente questo è e in spare passa tutto il suo tempo a dirti perché era giusto che lo finanziassero perché in pratica lui era messo in una situazione impossibile perché non poteva andare in giro da solo e quindi doveva pagare la sicurezza Out of Contest diceva Julie esiste un bellissimo cartone che parla della leggenda delle Selkie la storia delle foche che chiamano Megan si chiama la canzone del mare per me a Harry ma anche alla famiglia dice Sofia il padre e il fratello l'ho compreso dal libro spero quando dice che voleva condividere con loro i traguardi dei suoi figli sì certo aveva questa questa questo sentimento di fondo questa nostalgia però andare a parlare male di loro in mondo visione non credo che abbia aiutato Carlo Carlo gli è sempre perdonato tutto William secondo me è una storia diversa Merisana dice che i fans di H&M sono l'incoerenza sono eroi che hanno lasciato i cattivoni reali ma poi si arrabbiano sui loro figli non sono nelle foto di famiglie dei reali se non sono sul balcone e sì infatti Paola diceva anch'io facevo così come Harry però avevo 4 anni e mi dicevo Paola ha imparato una nuova parola complimenti Harry diceva Black Raven in un colpo solo praticamente ha insultato il suo paese nella docu serie io ero basita quando hanno iniziato credo il secondo o il terzo episodio con tipo 5 minuti in cui parlavano della storia britannica del Commonwealth di come fosse razzista sta insultando un'intera un'intera popolazione Merisana dice sul Commonwealth ho le mie ipotesi sul perché proprio adesso ci siano certi problemi ma il punto è l'incoerenza di questi due il trattamento di Harry verso quel sistema in cui ha sguazzato e in cui voleva ancora sguazzare e questa è la cosa chi di verde si veste dice pichessa di sua beltà si fida e viene trafitta dallo sguardo di Kate elegante non trombona stavate facendo un commento sul vestito rosso che ho mostrato alla fine è proprio l'abito il problema sarebbe abbassata una fascia intorno alla vita per risaltarla diceva Black Raven sembra proprio poi confezionato di fretta Black Raven diceva la stoffa è rigida e tende a incresparsi poi essendo rosso così acceso si vede proprio come se facesse difetto secondo voi poi la foto di Megan magari quella in cui appariva con i capelli barroncini era un filtro sembra un'altra persona Jul diceva per carità non è body shaming è una bellissima donna semplicemente non sa vestirsi sì sì so che non lo intendevate però ho ritenuto importante sottolinearlo perché in generale potrebbe sembrare e potrebbe sembrare magari che io gli stia dando questa valenza e invece no ci tengo davvero anche perché appunto lei ha proprio queste gambe sottili che non sono belle ma stessimo a guardare difetti di cada uno di noi di ciascuno di noi insomma non la finiamo più tutti possiamo essere bellissimi Megan ha il vantaggio di avere anche un un viso straordinario il problema è il carattere signori il carattere Michela dice che secondo lei Megan si è rifatta ed è abbastanza evidente ma ci sta che sia anche un filtro Francesca ciao che mi dice finalmente ti seguo dal vivo mi piace tantissimo il tuo modo di raccontare le vicende di Harry Megan e Royals per l'obiettività che conservi al di là delle tue opinioni personali grazie per me è molto importante farvi capire che non ce l'ho con i personaggi in sé ce l'ho con ormai sì però per gli atteggiamenti che hanno tenuto non peraltro anche io voglio lo stylist dice Silvana oggi ho visto una mostra su Frida Kahlo e Diego Rivera diceva Merisana mi ha colpito una frase di Frida ho avuto due incidenti uno finire sotto un trama uno incontrare Diego Rivera ecco l'incidente di Harry e Megan forse un giorno ci arriverà ma come vi dicevo per oggi sembra che siano molto felici ancora vediamo proprio così a ah no non ce l'ho la foto di loro due dai Lakers però adesso ve la trovo in chiusura perché a vederli così per farvi capire la forza di un'immagine sembrano due felici felici di stare insieme e alla fine gli unici ed è una strategia intelligente comunque sembra che quelli che parlano male di loro siano haters e quindi loro stiano facendosi fatti loro siano contenti tranquilli e sia la gente che che si che si preoccupa ancora di criticarli quando loro poverini stanno solo cercando di vivere la loro vita ed è una strategia mediatica che se la forza delle foto è questa se uno le guarda pensa addirittura oddio forse è vero forse loro sono felici e siamo noi che ci stiamo costruendo castelli in area e sono pronta a ricredermi nel senso che se continueranno così vita al natural durante cioè a farsi fatti loro a uscire felici così davvero che cosa altro possiamo dire hanno imparato la lezione sembrano contenti si fanno escono insieme marito e moglie che hanno un appuntamento senza i bambini ridono si divertono posto che si è già visto anche lì e sembra strano insomma erano sotto la telecamera chi scamma in queste partite inquadrano le coppie quando vengono inquadrate dalla telecamera che si vede in tutto lo stadio o il palazzetto l'idea è che si devono baciare e Harry le vede lui si avvicina e lei no praticamente è come se dicesse no scusami ma perché no è tuo marito sei timida non penso proprio perché io penso che sia stato perché lei deve avere molto il controllo del tipo di immagine che fa e di nuovo non è spontanea lei sicuramente si è mai fatta vedere mentre si baciava nella docu serie Harry e Meghan mai mai vero mi sembra di no e non direi che è timidezza è proprio un voler controllare la narrazione in questo caso lo sta facendo in maniera efficace se non per questo piccolo momento di defiance però se continuerà così sarà il suo gran colpaccio ha capito che ha ascoltato i suoi i suoi fan quelli che ancora la seguono e che ancora credono che lei sia una povera innocente che è stata slighted cioè è stata punita ingiustamente dalla famiglia reale cioè loro credono che Harry e Meghan si stiano facendo la loro vita e che siano gli altri a essere ossessionati da loro quando loro stanno solo cercando di essere felici e allora Meghan sicuramente l'ha letta questa cosa perché passava il suo tempo a leggere e aveva pensato allora questa è la strategia che devo seguire per farmi amare di nuovo vediamo se ci riuscirà vediamo se ci riuscirà perché scusatemi non si vedono per settimane e poi nel giro di un solo giorno 24 ore due momenti in cui all'improvviso Meghan riappare sorridente il giorno dopo un appuntamento in un luogo pubblico strano strano secondo me ci saranno altre di queste uscite qui in vista dell'incoronazione in cui lei farà capire che loro in realtà sono felicissimi e che i cattivoni che non l'hanno voluta invitare all'incoronazione sono quei rigidoni della famiglia reale a voi non sembra molto convinto Harry in questa foto Letizia dice mancano due settimane all'incoronazione so già che non saranno in silenzio è vero ormai siamo manca pochissimo siamo il 25 si mancano neanche cosa dieci giorni quasi praticamente incredibile solo io dice Black Raven ho notato che Harry sta iniziando a perdere i capelli o era un affetto infelice della foto no non penso proprio come come William accade purtroppo no non mi va di prendere in giro questa cosa a parte che pure io non ho moltissimi capelli ma vabbè se persino loro che sono così ricchi non riescono a porre rimedio a un problema maschile comunque no cioè poveri è un po' come le rughe per le donne fanno del loro meglio non è certo questo è il motivo per cui lo si critica lei cerca il contatto con lui solo quando non è al centro dell'attenzione il controllo che ama è centrato il punto diceva Letizia quando Harry diventerà Carlo come William voglio vedere come reagirà Meghan ma niente gli mette un cappello peccato che lei fosse invitata dice Merisana ma cerca di rigerare la frittata sì è vero lei era invitatissima all'incoronazione è solo che non sarebbe stata davanti e come ci ha raccontato Tom Bauer in questo in questo episodio di oggi per loro era persino un problema non poter camminare insieme agli altri in un evento semplice come il Commonwealth Day Service figurarsi all'incoronazione Harry User Harry Portino diceva Merisana no beh immagino che si possa fare come si chiama il trapianto solo che c'è un bel periodo in cui si vede il trapianto insomma da un brutto effetto dopo si vede bene ma per un bel po' tra l'altro sarà semplice con capelli del colore come il suo non lo so io fossi lui farei quello che fanno molti uomini coraggiosi ma bisogna farlo a un certo punto completamente calvo si sta meglio solo che un royal calvo in effetti forse starebbe male non lo so però meglio così che con la pelata ti fa sembrare ancora più vecchio magari potrebbe anche diventare un figo non lo so non lo so Letizia dice ho sentito che Harry sarà seduto in decima fila Silvia dice dopo sette ore di coda sono felicissima di essere riuscita a vedere la live in che senso sette ore di coda in macchina oh poveri mi spiace mi spiace io oggi ho essendo di origine peruviana non ho festeggiato strettamente questa giornata sono stata qui nella casa dei miei che un giorno vi faccio vedere come si deve ormai sono passate due settimane buone da che sto qui ho ho pranzato con i miei genitori le mie nonne e poi ho fatto la campagnola nel senso che mi sono addirittura un po' abbronzata nonostante mi sia messa l'abbronzante nel giardino dei miei ho dipinto dei bancali di Lilla perché mia madre vuole farne delle sedute per la comunione della mia nipotina e le ho ho fatto l'imbianchina ma mi sono divertita tantissimo tra l'altro ascoltando un audiolibro a proposito l'audiolibro di questo Revenge di Tom Bauer c'è e vi invito ad ascoltarlo in lingua inglese se volete fare un po' di pratica lo trovate sull'app Bookbit con cui ho una collaborazione se vi scrivete a me arriva un bel po' di indime e soprattutto a voi arrivano due mesi gratis nel caso mi piaccia come iniziativa è una app comunque che ha tanti libri anche in italiano questo libro che stavo ascoltando oggi ve lo racconterò sicuramente ormai sono al tipo al 80% un'ultima dipinta e ve lo potrò raccontare Silvia diceva sì sì in macchina poveri ecco io ero non lo so è successo anche da voi ha piovuto anche da voi perché qui all'ora di pranzo ha grandinato ha grandinato per una mezz'oretta e poi è andato via di nuovo sole e sono riuscita a dipingere una roba incredibile ma se fossi stata fuori a fare una gita fuori porta credio se sarebbe stato orribile siamo riusciti a mangiare nella terrazza chiusa grazie a Dio Merisana sta ridendo per i malevoli diceva Michela che volevano Harry non fosse figlio di sangue di Carlo la pelata è una condizione genetica che il principe Filippo ha portato nella famiglia non era dalla parte di Diana io se ne sapevo che di solito si veniva da parte di madre però in effetti Diana è capelluta vero Gioia dice a Milano tre gocce eh lo sto sentendo io sono sempre nel nord ma nel Piemonte e questa settimana ha piovuto abbastanza e invece mi stanno dicendo a Milano pochissimo deve esserci una cosa non so bassa pressione altra pressione non so cos'è che tiene lontano la pioggia è sempre stato così in effetti mia madre mi diceva spesso è da noi è piovuto a Milano non pioveva mai e invece qui qui si sta bene grazie a Dio Merisana dice è piovuto stamattina da casa fino a Padova poi un bel pomeriggio qui proprio la grandina a un certo punto anch'io trascorso dice Giulla la giornata in casa in campagna dai miei abbiamo raccolto fragole e uova con le bambine bellissimo Virna dice abbiella due gocce ma anche io sto abbiella praticamente un po' più in là verso il comune di Cossato un pochino più in là però qui ha grandinato proprio qui a Mestre Lampiettuoni Merisana dice viva in provincia di Treviso anche da noi diceva Michele qui è abbastanza pioggia io comunque faccio la danza della pioggia sono molto felice che piova perché quando vado a Milano magari nei prossimi due giorni ci torno adesso forse dopo domani vado di nuovo a Milano cioè i fiumi che si vedono una tristezza infinita vabbè adesso mi sta venendo voglia di fare chiacchiere varie ma no concludiamo questa serata a tema Meganiana una serata Meganiana a tema Harry e Megan e una serata chiacchiera la farò nei prossimi giorni magari venerdì o non lo so vediamo adesso vediamo anche domani vorrei offrirvi di nuovo una serata a tema romance adesso vedo se vi racconto tutto un libro perché poi sto leggendo anche il secondo della saga Bevelstock di Julia Quinn oppure appunto la nuova parte del libro di Evie Dunmore gli Spencer erano tutti i capelli diceva Michaela sono i Windsor da Philippe in poi che hanno portato questa caratteristica genetica sì infatti Harry è figlio di suo padre ma proprio è quello che gli somiglia di più caratterialmente anche Giulia mi dice buonanotte anch'io auguro buonanotte a tutti voi vi ringrazio tantissimo di essere stati in mia compagnia questa sera di avermi concesso il vostro tempo mi raccomando iscrivetevi al mio canale per avere sempre novità per vedere gli shorts in cui vi do le news su questa questione magari se vi va se vi piace la mia voce molti mi dicono anche questo seguite anche gli altri miei contenuti seguitemi anche su TikTok se volete soprattutto contribuire alla crescita di questo mio canale mettete mi piace ai vari video poi commentate anche al di fuori delle dirette se volete agire in maniera un pochino più concreta c'è scritto nella descrizione del video e poi nel primo commento dopo la diretta buonanotte a tutti quanti e buona ripresa della vita di tutti i giorni a partire da domani se sarà così ciao a tutti notte